Ecco, noi siamo abituati, se abbiamo un prato, abbiamo lo prato tagliarlo sempre a raso. Ma è un errore, perché nel prato ci sono tantissime erbe che a seconda della stagione ci regalano delle cose. Per esempio qua abbiamo lasciato selvaggio, siamo tornati dopo dieci giorni e guardate che esplosione di giallo, guardate. Questa è la Linaria vulgaris, detta anche lino selvatico perché le sue foglie assomigliano al lino. Ho detto anche erba dei tacchini perché è come un bargiglio ed è il bargiglio che richiama una cosa particolare. Le api, perché in questa stagione ci sono pochi fiori, quindi sono contente di questa Linaria, cercano di suggere il nettare. Però è un po' chiuso, la bocca di questo fiore è un po' chiusa. Allora loro cosa fanno? Fanno un buco sotto per riuscire ad arrivare a prendere il nettare.